spettacolando tv siamo con l'agrippina delle agrippine ma questa sembra un'araba però ho detto così non sembra agrippina agrippina è una talmente incavolata ma che ve lo dico è proprio arrabbiata ce l'ha con tutti è troppo scaltra il potere perfida cattiva ma sei molto cattiva? si penso è un personaggio che nella mia vita non ho mai fatto sai che quando vedo luciana frazzetto alias agrippina poi la guardo sotto dico può essere cattiva una donna così vabbè però elargisco nel senso che durante lo spettacolo mi mostro facciamo le serie poi ritorniamo sul gossip soprattutto insomma mi piacciono molto i miei schiavi di cosa stiamo parlando? di Nerone superstar io ho i miei fidati schiavi capito che li mando a sequestrare con l'inciso Nerone superstar da domani sera fino al 28 maggio al teatro Tirso Roma insieme a Stefano Antonucci Pietro Romano che fa Nerone poi ci sta la Gregorini poi c'è Stefano Antonucci abbiamo nominato così si è fatto nominare due volte eccolo qua in borghese perché mi hanno detto te ne puoi annà e invece eccomi qua in tutto il mio splendore anche perché in borghese vengo meglio che in tuta splendore parliamone come ti permetti allora io sono il senega della situazione e sono quello che praticamente c'ha sempre a che dire con la signora Agrippina la quale mi soffre perché praticamente lei aveva dei programmi sul maneggio dei denari eccetera e io con la mia filosofia perché io sono un filosofo niente meno e praticamente inculco la filosofia a destra a sinistra e gli faccio un biscottino cioè nel senso che mi metto al posto diafragno pallante che sarebbe il suo protetto e questo logicamente la fa strippare e chi se ne importa così il fatto che adesso mettere ordine in tutte queste cose è difficile è un disastro anche perché Antonio Pallante voglio dire io a Franio Pallante io ce l'ho proprio sotto le mie grinfie lui è innamorato di me tenta di baciarmi e di abbracciarmi ma ogni volta va via proprio in malo modo poverino perché comunque la verità è che io voglio quel trono perché quella sedia deve essere mia tattacchi va bene ma pensa che ma chi è il più serio di voi due? no lui sicuramente io sono serio quando dormo devi sapere che io ho anche diciamo ho ingaggiato un sicario Francesco Trifiglio un sicario che in questa situazione devo andare a ammazzare Nerone perché al posto suo devo mettere l'altro gemello ma lei ha scusami però lei ha la passione per gli schiavi però si molto poi sono due ragazzetti proprio carucci carucci anch'io c'ho la passione per gli schiavi però anche lui ce l'ha così dicono capito? io non l'ho frequentato Seneca ai suoi tempi però così dicono che vizio sono sì lo so lo so comunque nella realtà non è vero è un campano l'adattamento è di Roberto D'Alessandro che è proprio scritto e diretto da Roberto D'Alessandro l'ha cucito su di voi sì l'ha cucito lui tra l'altro l'ha fatto già otto anni fa anche al Bagaglino è andato benissimo quindi è stato riproposto qui al Teatro Tirso è prodotto da Achille Mellini insomma che in questa io però vi voglio mettere tra di voi se ci riesco se ci riesco perché se no mi viene una specie di segno e no vabbè non volevo disturbare questa coppia che è una coppia la signora Paola Aspri aggiungere una piccolissima cosa questa versione sarà ancora meglio di quella del Bagaglino perché praticamente ci stiamo noi ecco solo è giustamente all'epoca non voglio neanche sapere chi faceva i nostri ruoli chi interpretava i nostri ruoli adesso ci sono Stefano Antonucci e Luciana Frazzetto e allora venite a vedere per forza perché se no venivano a cercare a casa e venivano a cercare e mi raccomando non avete nessuna scusa se no che facciamo veniamo a cercare sì a casa veniamo e vediamo il collo il collo vediamo che farebbe Agrippina si va a prendere no Agrippina si va a prendere proprio la sedia dentro casa vostra che visto che non può avere il trono magari una portrona a casa vostra chissà ma darete hai capito ci vediamo qui fino al 28 maggio Teatro Tirso De Molina con Stefano Antonucci Luciana Frazzetto Pietro Romano e l'adattamento e la regia è di Roberto da Alessandro ciao e viva Agrippina e viva Seneca e viva Agrippina Agrippina e viva Agrippina Grazie a tutti.